Salve a tutti gente del Creeper, noi siamo qui in Ark Survival Evolved Allora, iniziamo questa serie, carina perché è bellissimo Ark, in realtà è uno dei giochi più belli secondo me, secondo me è un per tutti Mai creati, diciamo, tanto tempo fa, perché è stato creato un sacco di tempo fa, una bella grafica ed è molto carino Allora, io ci ho già giocato un pochino ad Ark Survival e devo dire che è carinissimo, è molto carino E quindi iniziamo questa serie creando ovviamente un nuovo personaggio Io non so se voglio fare femmina o maschio, forse femmina è meglio, non lo so E la chiamo Smeralda Scusate per i rumori, ma aspetta che disattivo un attimo, non disturbare, ok Ok, Smeralda Smeralda, ok, adesso ci mettiamo Cosa sarebbe? Ah, i colori della pelle Poi, vabbè, praticamente normale Spalle un po' così, anca, ok Torace deve essere molto forzata, ma non troppo Tipo così, va bene Crea Ok Iniziamo nuova, questa fantastica nuova serie Vediamo dove spawniamo Siamo in The Center, perché ho visto che The Center è molto carino Non fareste i rumori The Center, secondo me, è molto carino perché è uno dei posti più belli E delle mappe più belle Guardate che bellissimo, bellissimo proprio Allora L'unica cosa che ho fatto Che ho solo a lunga, diciamo Che quando tammo un dinosauro ci mette meno tempo Perché? Perché se no non posso starci 50 anni ad aspettare Oddio, ho già levelappato Non posso stare 30 anni a... Cosa li aumentiamo? Io vado su peso perché è la cosa che secondo me è mella Poi sblocchiamo dopo Allora Ho aumentato soltanto che Per tamare un dinosauro, si dice così Ci metti meno tempo perché Perché diciamo che sì Se no non posso starci 30 anni ad aspettare un brontosauro che ci mette 40 anni Vabbè, iniziamo rompendo un albero Bene, ovviamente le solite cose di arte survival Iniziando con il treno E iniziamo Ci servono delle pietre Per creare un altro levelapp Creiamo Questa volta vado un po' su di vita Allora Allora ci creiamo ovviamente L'ascia La lancia E il falò per ora E poi altri me li terrò per dopo Magari Questa ci serve E gli altri me li terrò Ehm Ci facciamo subito un piccone Ehm Armi Primitivo Mischia Ok Posso farmi questo piccone Però ci serve la selce per fare l'ascia Allora Così 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 Bene Oh Quanta selce Oh un po' di metallo Va bene Va bene Stiamo già incominciando bene 30 di selce Ci sta benissimo Ci facciamo un po' di questo E un po' di questo Questo cosa serve? Legno e fibra Ok Ehm Intanto ci prendiamo l'ascia Dove cavolo è l'ascia? Ecco La mettiamo qui Mentre la torcia La mettiamo qua Allora Iniziamo con l'ascia E spacchiamo un bel po' di legna Ehm La madonna Quanta legna Non so se potete vivere in genere Vabbè Ho tanta legna Magari buttiamo questa Cos'è sta roba? Una pistola Già Cosa devo fare? Illumino il cielo Però non ho i razzi Cos'è questo? Ah vabbè Poi ci provo Ehm E ci serve la fibra Ecco Ehm Ci facciamo la lancia Ehm Ok Posso già levelappare Mi faccio Mi levelappo il peso Perché sto Praticamente su lì Ok Possiamo già fare le prime strutture Però Ci serve ancora un po' Levelappare Come non detto Mi ha già levelappato Vado sempre su di peso Per ora Ehm Potremmo iniziare a fare così Posso mettere No cavolo Ah no Ce l'ho fatta fare tutti Ok Allora iniziamo a prendere un po' di fibra Boom boom Ehm Ehm E cosa ci serve? La paglia La paglia Credo che si prenda Con il piccione Ok La paglia si prende Con il piccione Allora Praticamente Voi dovete L'unica cosa che dovete fare È dare nomi ai dinosauri Perché Quando addomesticherò Dei dinosauri Voi dovrete Dargli il nome Perché non voglio Darlelo io Per ora Ehm Vediamo se ci sono altri Dinosauri Attenzione ai pericoli Dobbiamo stare Allora Siamo in the center Quindi un po' più pericoli Un dodo Un dodo Mi serve la carne Dov'è? Dov'è il dodo? C'è un dodo? Ho sentito Crrrr È qua Ciao dodo Aspetta che mi Prendo l'ascia Cioè non lascia il cos'è Quanto rumore fai? Sì L'ho ucciso Primo Primo Sei Congratulazione Sei il primo animale Che sei morto In questa ferie Ok E poi ci dobbiamo fare Possiamo già Iniziare a fare Le strutture Non cucina Dopo la cucina Sì Ci facciamo un po' di questi Per fare un po' la base Per ora E poi Iniziamo a costruire Il legno Ok Nel mentre Mi ha anche Velevelappato di nuovo Aia mi sono fatto male Qua iniziamo un po' A costruire La nostra base Proviamo già Va bene Non è proprio la nostra base Perché poi ovviamente Ci trasferere Come si dice Vabbè Non so parlare Trasferiremo Non mi ricordo E Ovviamente Questa sarà una base Momentanea Noi andremo Ovviamente La ricerca Di mostri Di cose Brutte E Sto Sto Morendo di caldo E' meglio Che mi vado un attimo Un attimo Rinfrescare Speriamo che non ci siano squali Nel mio Tabbasso un attimo Oddio No 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 C'è un Cosa Allora Il primo animale domesticale Dovrebbe essere Il O il dodo Vabbè Il dodo Facile Lo faremo se mai Un'altra volta Intanto abbassiamo Un attimo L'ambiente Forse O gli effetti Sì anche gli effetti Vabbè Li abbassiamo a metà E tutto così Ok Dovremmo Fare così Allora Il primo Dovrebbe essere Il Dilophosauro Quello lì Allora Però ci serve La mazza La mazza L'ho sbloccata Vediamo se la sblocco Dove cavolo È la mazza La mazza La mazza La mazza No la mazza Si sblocca A livello 8 Allora Dovremmo fare A pugno Allora Non so se Ci riusciamo Però Dovremmo Se non ci riusciamo Dovremmo risponare qui Io prendo la nostra roba Nel mentre Vado Attenzione No Vieni qua Dormi Dormi Oddio Sto scappando Vuol dire che Si l'ho addormentato Allora Ce l'abbiamo la carne Ce l'abbiamo Un po' di carne Di Di questo Dovrebbe Mangiare Se ha fame Dovrebbe mangiare Allora Ecco Ho mangiato Ok Ok Mentre Vado a prendere Un po' di Anzi no Mi faccio il falò Normalmente Allora Mi faccio il falò Ecco Allora Non gli diamo il nome Perché Non gli diamo il nome Perché Ovviamente Avevo detto Che Dovreste Darle a voi Il nome Basta In option Cambia nome Mettiamo il nome Ora Rimane Dilophosauro Normalmente Allora Gli dico Di seguirmi Dovrebbe Già seguirmi Ok Intanto Ha fatto La cacca E i suoi bisognini E Allora Tu Arrivi qui E mi resti Fermo Fermo E Nel mentre Io vado A farmi Un falò Ecco qui Il nostro Falò Da campo Intanto Levelappato Di nuovo Li aumentiamo Questo Questa volta Li aumento Lo scudo Possibile Così Allora Possiamo Già No però Possiamo Sbloccare Il narcotico Ah Questo è utile Mortaio E pestallo Lo sblocchiamo E sblocchiamo Anche il narcotico Possiamo Sbloccare La sella Per fioma Però Non lo sblocco Mi tengo i livelli Allora Iniziamo Forse Potremmo Potremmo Già Costruire I muri No Ok Allora Andiamo a prendere Un po' di paglia Allora Sì Ho preso Un po' di paglia No Che manca La fibra Ok Vado a prendere Un po' di fibra Allora Tanto sto Morendo Praticamente Di fame Devo Prendere Un po' di paglia Per bruciare Delle robe Ho paura Ad avvicinarmi Alle montagne Perché potrebbero Resserci De Quello cos'è Un dilophosauro Oddio Cos'è quelli Oddio c'è Un tirannosauro No 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 Corri 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 Non me ne frega niente Se è un tirannosauro Qualcosa Io me ne corro Via Allora Sto anche per morire Di fame Dovremmo Aver Già Ecco Possiamo costruire Qualche parete Oh anche tante Ci facciamo Una di queste Ci facciamo Altre Tutto Eh va bene Posso fare solo uno Una bella porta E non posso farmi Il tè Vabbè Allora Vabbè Aspettiamo Dovremmo Iniziare Poi a Trasferirci Quando avremo Già un po' Più di Di materiali Di qualcosa Dovremmo Andare un po' Più Verso Là Perché È il punto Più carino Di The center Tanto Mi ha levelappato Li aumento Il danno Da mischia Perché Ok Dovrei Riuscire a fare Il Posso Levelappare Anch'io Però lo guardo Dopo Faccio Questo Poi Un bel Uno Questo Cosa ho detto Uno Questo Vabbè Allora Iniziamo con No iniziamo con le fondamenta Perché dobbiamo ancora Questa fondamenta Non va E che luminosità Ha questa Ho gioco Tantissima Una luminosità Bellissima Non è vero E allora Posso costruirla Così Qua ci facciamo La parete D'entrata E ci facciamo Una bella Porta Ok Però Non serve a nulla Perché i dinosauri Possono passare Di qua Yey Allora Nel mentre Levelappiamo Ma quanti sto facendo Che livello sono Sono già a livello 7 Nel mentre Le aumento Il peso Come sempre Perché io vado Sempre sul peso Perché la cosa Secondo me È più fondamentale E ci blocchiamo La mazza Perché serve Per Per Sì Aspetta Creazione Paglia Tanti muri No Ne posso fare Solo uno Mi serve La fibra Forse Allora Così Boom Vabbè Vado a prendere Sia paglia Che fibra Ci vediamo Tra poco E mi sono accorto Che ho Un poto Di fame E dovrei Andare A casa Per mangiare Ci abbiamo Un po' di carne Nel dilofosauro E un po' Ce l'ho Nell'inventario Allora Dovremmo Dare qui Mettere Avvicinarsi Avvicinarsi Alla mia Casa Butta via Ma posso Mangiarmi La cacca Boh Eh vabbè Eh Li aumentiamo Cosa li aumentiamo Allora Il vigore Questa volta Teniamoci Teniamoci Ovviamente Lì Ingram E ritorcia Di peristallo Bandiera Bandiera No Non mi interessano Tante bandiere Pennello Oh carina Questa Serve Catturare Gli uccelli Questa La sblocco Tanto Mangio Dovrebbe Essere Pronta Ok La metto Qua E quante Cavolo Ne sto Crattando Ma è vero Che devo fare Anche Odio Essere In un punto Troppo No Ho sprecato Dei materiali Eh che cavolo Adesso piove Così 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 E mentre ci mettiamo Anche un po' Di tetto Perché Non possiamo Vivere Con la pioggia Oh Mettilo bene Boom E Boom Eh vabbè E per questo episodio Di Ark È tutto Siamo qui Con mezza Casa E possiamo Ok Possiamo anche Completarla Forse La casa No Col tetto Non ce la facciamo Però possiamo Costruire le pareti Nel mentre Le brappiamo E Spero che questo episodio Di Ark È tutto Spero che vi sia piaciuto E Lasciate un bel mi piace Il tanto ne aumento Alla sempre E Spero che vi piaccia Nel mentre Aspetta Boom 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 E No Boom E Boom Ok Il tetto Non so se ce la facciamo Proviamo Veloce Allora Ho preso Un sacco Di fibra Dovremo Velocissimamente Finire il tetto Nel mentre Ne costruisco qualcuno Quante ce ne servono Tipo tre Ok Forse tre Forse quattro Vabbè Uno Ah no Due Solo Ok Abbiamo completato La casa Spero che questo episodio Di Ark Vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Abbiamo anche addestrato Un bel dilofosauro Carino Carino Il mentre mangio Vi saluto Ciao ragazzi Vi saluto